Allora, eccoci tornati in diretta per parlare appunto della storia dell'Enel, della storia della nazionalizzazione dell'energia elettrica, Armando. Questo vorremmo far capire, perché è una storia purtroppo dimenticata, quanto fu importante questa operazione e quanto costò poi questa operazione, ma era obbligatorio e quindi parlavamo prima di democratizzazione dell'Italia. Qual è stata questa democratizzazione? Se il nostro ospite Gottardo ci aiuta a ricordare un attimo, come fu impiegata l'energia elettrica per connettere… Ha due aspetti, queste cose che vanno sempre messe assieme, vanno più aspetti. Enel viene perché prima c'è stato l'Enel e le autostrade, queste sono poi un po' più in giù, ma altrettanto strategica, attraverso Bernabèi si faceva la televisione di Stato, con tutta una funzione di acculturamento e di costruzione di un linguaggio collettivo. vuoi tanto per capire… Sì, ma l'Enel che funzione ha avuto? Indirettamente, ma noi non diamo quel peso perché ormai per noi l'energia elettrica è una cosa che usiamo e sprechiamo. Ma pensate che mettevamo nelle campagne la televisione se non c'era l'Enel? C'è… Ma dove è stata la rivoluzione nel linguaggio, nel comportamento, negli stili di vita che hanno imposto stili di vita? Io ritengo positivamente, urbani nelle estreme appendici del paese dove non riuscivano neanche a parlare l'italiano. Le cose ci tengono profondamente e noi magari le sottovalutiamo, ma una cosa chiama l'altra ed è una trasformazione profonda del paese, è una profonda trasformazione democratica. Ma pensiamo al Veneto, che già, come dice bene, Segafredo, insomma era privilegiata nel consumo dell'Enel che avevamo la Sade, apro la parete, la Sade aveva una reggia, era padrona, comandava a vero, sapendo come andava il Veneto la Sade, da Palazzo Barbie, Palazzo Barbie che è la sede del nostro Presidente che è il fondatore della Sade. Chi è il fondatore? Conte Volpi di Misurata. Certo, ma lì... Ha fatto il danno a Venezia inventandosi una zona industriale nel cuore più bello di Europa e poi ha inventato la Sade che è la causa... L'era un potere vero... Ne parleremo più tardi, è la causa del baiolo. Bravissimo, ma era un potere che si esercitava fino a dove interessava l'azienda, dove interessava la globalità del paese, del popolo, si fermava perché non c'era il reddito. Dalla sull'azione è un elemento di democrazia vera perché dai dei servizi veri. Ma senza questo nel Veneto non sarebbero nate le migliaia di zone industriali, non si sarebbe sviluppato quel modello a cui anch'io ho lavorato da giovanissimo che era quella di ogni campanile una ciminiera. Ma voi pensate che questo era possibile fare ogni campanile una ciminiera se non c'era una rete di distribuzione di energia? Questo è bene o nel male. e poi guardo che questo era... Adesso, adesso, adesso... Ogni cosa non ha solo un aspetto. Allora, secondo Boato, qual è la democraziazione che ha dato l'Enel all'Italia? Io non sono così ottimista come Lottarda. Cioè, tutto bene il discorso... No, ma raccontiamo i fatti, poi l'ottimismo lo tirano fuori. Quando si dice questo magnifico progresso, eccetera, non è così perché è proprio quel modello lì che poi ha mostrato la corda. Cioè, questo diffondersi su tutto il territorio di una industrializzazione a macchia d'olio, a sale e pepe si diceva una volta dal punto di vista degli urbanisti, non è stato positivo. Scusami, Gottardo, è stato un elemento che ha privato il Veneto spesso di una sua grandissima... Beh, ma non è colpa dell'Enel. Diciamo che è stato gestito male. È stato. Perché se all'Enel, dicendo di Stato, gli si dava delle indicazioni, probabilmente la cosa sarebbe stata diversa. Ma non è la politica... L'Isba di Taranto non sarebbe nata dentro Taranto, ma... L'Italia non dà le indicazioni all'industria, è il contrario. Io lo vedo tutti i giorni, insomma, lo vedo tutti i giorni questa cosa. Se ci sono gli interessi economici forti che abbiano un cognome o un altro, non voglio adesso perché abbiamo citato Volpi, potremmo citare gli attuali, sono loro quelli che alla fine dettano la politica. Sono loro. Anche se qualcuno dice che non è vero perché si fanno le elezioni, si rendono... Ma qui possiamo aprire una porta aperta? E quindi dire che quel sistema lì non è stato guidato dalla politica è l'acqua fresca, nel senso che niente è stato guidato da... Sì, ma la democrazia dove sta? La democrazia come l'Enel indirettamente crea uno sviluppo democratico del Paese. Certo, in tele, fanno la televisione che hanno detto che tutti i mezzi di comunicazione se non c'è l'energia elettrica non esistono, è evidente. Ma non è detto che questo sia l'unico o il carattere centrale della democrazia. Ci sono varie concezioni della democrazia, c'è una democrazia anche che dice quali sono per esempio le capacità locali della democrazia diretta, che certamente non hanno nulla a che vedere con le cose di cui stiamo dicendo adesso. No, noi vediamo l'aspetto Enel in questo momento, non stiamo parlando di democrazia a 360 gradi, stiamo parlando come il contributo che l'energia elettrica, quindi che si chiamava Enel, cosa che non avveniva prima della nascita dell'Enel, avviene sul Paese. Matteo, se che prego, sempre tornando all'azienda. Qualcuno, mi pare lei, ha detto questa nazionalizzazione ci costò tanto. Oggi si direbbe che è una grande fake news. La storia dell'Enel invece, quella vera, dice che l'Enel non è costata niente agli italiani, alla politica, al governo, allo Stato, perché fu una nazionalizzazione realizzata senza nessun fondo di dotazione. fino al 67-68, per la nazionalizzazione, il governo non mise a disposizione una lira. Questa giovane struttura industriale, ma innervata da grandi professionalità, che il Paese ha dimenticato, riuscì con sforzi finanziari e tecnici sovrumani a realizzare una grande azienda industriale. Che si pagò da sola. Si pagò da sola. L'Enel superò la sua endemica crisi finanziaria con la presidenza Corbellini, mi pare 1981-1986. Ma, in modo particolare, fino al 73 fu costretta dalla politica a mantenere inalterate le tariffe elettriche dal 59-1959 al 1973. Anzi, nel 67-68 ci fu una riduzione del 40% per le forniture domestiche e, oggi diremmo le partite IVA, cioè le utenze inferiore a 30 kW di potenza installata. Questo è stato un esempio di democratizzazione. Una volta che la politica, che il governo ha dato un indirizzo, ha dato l'input a un'azienda, ha costituito un gruppo manageriale e gli ha dato un mandato, produrre, trasportare, elettrificare il Paese al di nor costo possibile, questo gruppo di manager, questa azienda con impostazioni di tipo privatistico l'ha realizzato con sue forze, con sue risorse. Questo è un grande esempio di democratizzazione industriale. Però sembrerebbe che noi non fossimo d'accordo, ma io vorrei sottolineare che le aziende che sono state poi assorbite, cioè è sbagliato dire assorbite, le aziende, non furono assorbite le aziende, ma la capacità produttiva delle aziende. No, 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 furono assorbiti impianti, persone e organizzazioni, quadri, tutto. Quindi questa operazione, indipendentemente dal fatto che poi fu l'Enel a pagarle e non lo Stato, fu carissimo al prezzo, perché a quello che mi consta pagarono almeno il doppio del valore delle società. E quindi il fatto che l'Enel poi sia riuscita anche a pagare il doppio in dieci anni con l'interesse del 5,5% all'anno, questo determinò quanto valeva l'energia elettrica a quella volta e che se le aziende private avessero capito e avessero unificato, come diceva lei, la rete e quindi avrebbero portato l'energia a tutti, sarebbero diventati molto più ricchi. E questo è quello che succede nelle aziende che spesso non riescono a capire esattamente il mercato. Però tengo a ricordare che questa operazione in Francia era già stata fatta da circa 17 anni e da 16 anni in Inghilterra era stato fatto. Quindi non era un'operazione di nazionalizzazione di tipo socialista o comunista come era stata detta in Italia, ma questo veniva sottolineato proprio dalle aziende che vendendo avevano guadagnato il doppio. Però, vede, questo non è successo per una cattiva volontà e adottarono nella nazionalizzazione italiana gli stessi criteri di liquidazione proprio di Francia e Inghilterra. Però tra il 59 e il 63 il valore azionario italiano, non solo quello degli impianti elettrici, triplicò nella media. Quindi quel criterio che in Francia e in Inghilterra non fu generoso, in Italia grazie a questo processo delle quotazioni azionarie di tutto il mercato azionario italiano premiò le imprese elettriche. È vero che successe questo. Il criterio di liquidazione sulla base dell'indice della quotazione di borsa remunerò abbondantemente le aziende elettriche, le quali, non avendo liquidità l'Enel, ma avendole pagate con emissioni obbligazionari, lucrarono per dieci anni anche quell'altissimo interesse che lei adesso ha ricordato, dal 5 al 5%. Ma non solo, le aziende elettriche ci infilarono dentro un sacco di altre cose che aziendali non avevano. O comunque diciamo che l'Enel si è comprato anche gli scarti, non ha comprato solo il stop delle aziende. Per esempio si è comprato delle aziende che producevano energia nucleare, avrebbero dovuto produrre poi energia elettrica. Ma io torno un attimo indietro sul discorso democrazia. Questo che è stato detto è tutto importante. C'è un altro aspetto della democrazia. La possibilità delle persone, e lei ha accennato tu settimo, di poter avere un mezzo per acquisire informazione. Che l'informazione fosse condizionata da una serie di motivi politici, certo non ha importanza, ma l'alfabetizzazione, indipendentemente poi dai corsi del maestro famoso che faceva come imparare a scrivere e a leggere, il fatto che tutti volevano capire quello che la gente parlava. Il siciliano ha imparato a parlare l'italiano e il veneto ha imparato a parlare l'italiano meglio. Il toscano lo sapeva già, quindi poco gli serviva la televisione. Ma comunque io vi ricordo che avevo un carissimo amico che aveva un negozio a Dorovico ed era specializzato nel attrezzare le radio, non le televisioni, eravamo nel 51 dopo la grande alluvione. Fu ospite nostro a casa perché mia madre andò in piazza, in Prato della Valle, dice c'è una famiglia sfollata e si porta a casa tutta la famiglia, papà, mamma, figli e nonni. Complimenti, complimenti. Ma mia madre era fatta così, non aveva limiti. E allora a un certo punto siamo diventati amici e sono stato ospitato, ero giovane, stato ospitato, ero vivo e lui faceva le radio con la batteria. Cioè i contadini si volevano sentire la radio, il gramofono per farlo funzionare, ci voleva la batteria. Allora gli aveva fatto tutto il sistema, ma addirittura gli faceva l'impianto se avevano il trattore, dalla batteria del trattore, lo portavano fino a casa, c'aveva il trasformatore di energia e riuscivano qualche ora alla sera a sentire la radio. Questo era il sistema. E chi non era in grado di fare questo, che era già un contadino agiato, naturalmente alla sera spegneva la candela e andava a letto. Stuava il ciaro. Bravo, stuava il ciaro, ma c'è di più, che le compagnie private addirittura non portavano l'energia elettrica nei paesi che avessero meno di 2000 abitanti. Cioè quelli erano esclusi dalla società e tagliati fuori dalla civiltà sostanzialmente, perché l'importante è il mezzo, quindi la televisione, la radio, internet, eccetera. Poi sull'uso che se ne fa, questo fa parte di una cultura. Io però, chiacchierando, chiacchierando, ci siamo, vorremmo soffermarci sulla tua presentazione dell'Enel, che è un escurso per i nostri predispatori. Alla fine del secondo conflitto mondiale, le nazioni devastate dalla guerra dovessero pianificare delle politiche per la ricostruzione e il rilancio economico produttivo. Francia e Gran Bretagna avevano attuato delle politiche di ricostruzione che prevedeva un ruolo attivo dello Stato nei meccanismi economici. L'energia elettrica era di primaria importanza e per questo avevano avviato una nazionalizzazione dei servizi di fornitura di energia elettrica. La stessa cosa non era avvenuta in Italia, dove una politica miope e una classe dirigente economicamente impreparata, ancora legata all'esperienza fascista, avevano portato a una posizione critica nella presenza dello Stato nella struttura economica e finanziaria del Paese. Nei primi anni 30, dopo la grande depressione, il servizio elettrico in Italia era basato su sei grandi gruppi autonomi e a carattere regionale, Edison, SIP, SADE, La Centrale, SME e Bastoggi. Questi gruppi gestivano in autonomia i loro sistemi, escludendo una politica di coordinamento nazionale che invece era già stata messa in pratica in Germania, Inghilterra e Francia, dove l'interconnessione e il coordinamento a livello nazionale erano già una realtà. Una posizione che metteva l'Italia in ritardo rispetto agli altri Paesi europei, un ritardo che era anche tecnologico a causa di una struttura produttiva basata solo sulla generazione idraulica di corrente, che impediva una ripartizione efficiente tra i diversi tipi di impianti in rapporto alla domanda. Dopo il 1945 si tornò a mettere in discussione il ruolo dell'iniziativa privata, anche a causa della crisi produttiva del settore, che portò a un razionamento dei consumi con continue richieste di aumenti tariffari. Una situazione che mantenne la questione elettrica al centro dell'attenzione, ma senza che i governi di unità nazionale procedessero in una riorganizzazione del settore elettrico in chiave statale. La mancata nazionalizzazione pesava però negativamente sull'economia del Paese, mentre il peso economico e politico dei gruppi elettrici era diventato predominante grazie alla maggioranza politica di centro che garantiva la stabilità della situazione. Si contrastava così una apertura nella maggioranza di governo verso i partiti della sinistra, che appoggiavano una nazionalizzazione del sistema. L'espansione però di alcuni gruppi elettrici in altri settori produttivi cambiò gli equilibri, in particolare quando Edison entrò nel settore della chimica, che fino a quel momento era stato monopolio della Montecatini. Una situazione che andò a incrinare gli equilibri in confindustria sulla questione elettrica, tanto che nel 1962 Fiat e Montecatini non appoggiarono la campagna antinazionalizzazione. E su questi presupposti che il 6 dicembre del 1962 venne fondato l'Enel, l'ente nazionale per l'energia elettrica, un passaggio importante nella storia del nostro Paese che insieme alla nascita dell'Eni, fondato dieci anni prima da Enrico Mattei, rappresenta una svolta nella vita degli italiani. Mattei aveva capito che senza energia non si andava da nessuna parte. Con il gas e il petrolio prima e l'energia elettrica poi però il Paese cambia volto. Non più carbone e legna per scaldarsi, non più lumi a petrolio per illuminare le case anche nelle campagne o nelle zone di montagna. Lo sforzo per portare i cavi dappertutto è enorme. In un anno le utenze elettriche in Italia diventano milioni. Inizia lo sviluppo industriale, si moltiplicano le piccole e medie imprese base del nostro tessuto economico, nasce la cosiddetta industria del bianco. Gli elettrodomestici entrano a far parte della quotidianità degli italiani. L'utilizzo di frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie migliorano le condizioni di vita, soprattutto delle donne. Sono da stimolo alla diffusione della televisione e della radio. Arriva in tutte le case anche la lingua italiana. Se prima il dialetto divideva le regioni italiane, ora il linguaggio unico della televisione unisce il Paese. Siamo così in pieno boom economico. La politica aveva capito che l'energia elettrica sarebbe stata determinante per un Paese che voleva crescere. La chiave di volta in Italia fu l'ingresso del Partito Socialista italiano di Pietro Nenni nell'area di maggioranza di governo. Avrebbe dato l'appoggio esterno all'esecutivo, ma con l'impegno della nazionalizzazione dell'energia elettrica. Il Presidente del Consiglio, Amintore Fanfani, con il suo esecutivo, sostenuto da Democrazia Cristiana, Partito Socialdemocratico, Partito Repubblicano e, come si diceva, Partito Socialista, presentarono il 26 giugno del 62 il disegno di legge Istituzione dell'Ente per l'energia elettrica e trasferimento adesso delle imprese esercenti, le industrie elettriche. Il 6 dicembre il provvedimento diventa legge. Con la nascita dell'Enel le imprese elettriche vengono nazionalizzate. Vengono rilevate anche tre centrali nucleari delle 52 paranti nel mondo, centrali a carbone, numerose centrali idroelettriche. L'Enel fu posto sotto il controllo del Ministero dell'Industria per indennizzare gli imprenditori espropriati si decise di erogare una somma in contanti da versare non agli azionisti, bensì alle stesse società, che rimanevano quindi in piedi. Si decise anche che l'indennizzo sarebbe stato versato nelle casse delle società espropriate in dieci anni, con un tasso di interesse del 5,50% annuo. Gli indennizi vennero investiti in altre attività, che non sempre però portarono a risultati positivi. Il caso della Montedison, nata dalla fusione di Edison e Montecatini, che nel 1964 aveva già incorporato l'Assade, l'azienda aveva investito nella chimica, andò incontro a problemi di sovrapproduzione, calo dei prezzi e continui movimenti azionari, con il risultato di perdite e forte indebitamento. Insomma abbiamo ripercorso un poco, giusto votarlo? Ma alcune cose noi le avevamo anche un po' antecipate, perché sono il senso dell'epoca. Però io vorrei insistere sul tema che il professore aveva prima toccato della democrazia. C'è un aspetto che riguarda l'Enel, che lo differenzia nettamente dagli altri colossi che erano nate nel paese a garantire lo sviluppo, cioè Iri, non dimentichiamo, era un'altra cosa, Leni e poi Gerai, che già c'era. Mentre questi tre colossi erano fortemente contigui e infiltrati dalla politica, nel bene e nel male, più volte più nel male che nel bene, perché c'erano forme di reciproca etterodirezione. Reciproca, non sempre utile. Questo non avviene, dovevamo porti il problema, perché non avviene, parte di Giannale Segrafredo l'ha detto prima, non avviene nell'Enel. Mattei era quello che aveva comiato la battuta, i partiti, e gli dice, i partiti per me sono un taxi, li prendo, mi faccio condurre dove voglio io, scendo e li parlo. Punto. Non solo, ma si inventa delle correnti all'interno dei partiti e le mantiene, e le parla dentro il PSI, dentro l'ADC, e così via. Ciò non avviene con l'Enel. Probabilmente, proprio perché diceva Matteo Segrafredo, aveva questa forte importazione tecnocratica. Questa forte importazione tecnocratica la salva da queste incursioni e le consente una gestione di mercato abbastanza interessante. Perché interessante? Perché con l'acquisizione attuale è costretta anche a una sensibilità sociale e territoriale che era del tutto assente nelle precedenti società private. la salva e il vaion. Esattamente. Tanto per dirci, questi fenomeni qui sono cose inimmaginabili, mai dimenticati. Ecco, mai dimenticati. Però dico, questo è interessante, perché il contrario invece. L'Iri finché è rimasto, era una chiara piattaforma di lottizzazione, io ne sono stato buon testimone, ma la RAI ancora adesso lo è, tuttora. L'ultimo usciere viene pesato nel bilancino della lottizzazione del Stato, la fine della funzione egemonica della RAI. Hai perfettamente ragione, vado a vedere i telegiornali, le varie impostazioni, ma questo appartiene. Ecco, è interessante. Volevo terminare sempre, il suo amico, senti mezzo secondo proprio una battuta. Dubbi che ho adesso, è lo sviluppo successivo del Vietti in qualche modo paralleli, quello che riguarda le telecomunicazioni. È la rivoluzione mondiale che c'è in questo settore. Io su questo ho un forte timore, che le telecomunicazioni seguono più l'esempio della televisione che dell'Enel. E dobbiamo stare molto attenti perché nella riorganizzazione del cinque G e così via, dei controlli dei cittadini, il fatto che si salga una via totalmente e discurgentemente pubblica, e mi pare che l'interesse è almeno di questo governo, è quello di farla addirittura monopolistica, io starei un po' attento perché non rischia di non seguire il modello virtuoso Enel, tecnocratica, a servizio, ma un modello più televisione, più easy, più eccetera. Ti posso suggerire che è una globalizzazione della cultura in senso negativo. E allora la stessa... Buato. Buato, le lascio la parola. Io volevo mostrare l'altra faccia della medaglia. Tutto bene, madama la Marchese, però al terzo piano dove abitavo a Venezia, abitava un certo ingegner Biadene, che per avere i soldi dello Stato ha fatto morire 3.000 persone a Colvajont, rispondendo che Dio ce la mandi buona quando gli ingegneri gli dicevano il monte tocca sta scendendo. Tecnocrazia sì, però c'è anche questo, lì comandava Dio denaro, bisognava prendere i soldi. E io questo l'ho visto di persona poi, quando durante la costruzione della centrale di Fosina, quando sono stato assunto da manovale con la ditta Franco Tosi, è caduto un ragazzo da 30 metri ed è morto. e non era il primo. E questo era il modo con cui si lavorava, lì c'è voluta una guerra, perché ci fossero mantenuti le misure di sicurezza, un comitato antinfortunistico e tutte le cose che poi hanno impedito che ce ne fossero altri morti. cioè la gestione di questa società lì era la Franco Tosi, però c'era poi ovviamente una responsabilità della dirigenza di chi era Franco Tosi dava l'appalto. E così via. Mi ricordo le assemblee a ripetizione, infatti adesso ho appena finito un libro che ricorda gli anni dal 70 all'85, siamo andati avanti anni, 5 anni a chiedere che la centrale di Fusina non andasse a carbone, andasse a metano. Adesso, il giornale di oggi è a tutta pagina, oggi, oggi, non nel 1979, cioè sono passati 40 anni e si mette da parte il carbone e si parla che dall'anno prossimo, dal 2023, andrà a metano Fusina. In questi 40 anni quanti morti di tumore, quante intossicazioni, quante eccetera eccetera, per i bambini e così via. Cioè, la logica del profitto non è solo quella che porta a avere la televisione in tutte, è anche questo, non è solo il vaionto, sto parlando di tante cose, ho parlato del mondo del lavoro e dei nostri polmoni, e poi il nucleare che è stato prima citato, il buon Donat-Catain, a proposito di faccia e controfaccia, che era una marionetta dell'Enel o era l'Enel una marionetta di Donat-Catain, non lo so, so che voleva 42 centrali nucleari in Italia, eravamo impazziti, eravamo impazziti, e c'è voluta la rivolta dei comuni e poi il referendum dell'87, ma la rivolta, io ero a Vetrana in Puglia dove un comune intero si è rivoltato con il vesco in testa addirittura, il vesco di non so che paese lì vicino, però il figlio di Donat-Catain non era d'accordo col padre, era delle brigate rosse, era un'altra cosa, quindi forse ha rifiutato, aveva partorito il suo contrario, aveva partorito il suo contrario, ma io sto pensando a Donat-Catain che pure io ho conosciuto perché era delle acri come sono passato per le acri anch'io e l'ho trovato a Vallombrosa nell'incontro delle acri, che sembrava la persona intelligente, però poi c'era un tarlo dietro che era un tarlo altro che democrazia, lì c'era di mezzo un grande fratello che voleva prendere in mano una situazione. Sì, però usciamo un po' da Lenin. Eh no, era Lenin il cuore del piano energetico nazionale, era Lenin il cuore, non era Lenin, perché Lenin non la voleva, Lenin voleva il metano, voleva altre cose, non era, quindi non siamo fuori da questo. Non a caso nel 62 quando succede che creano Lenin viene sacrificato Mattei. Mattei ha portato il gas in Italia quando tutti lo prendevano in giro. La Germania dice gli italiani vanno a gas, poi ha capito che fosse la soluzione meno inquinante e più economica. tempi, adesso il fotovoltaico e altre cose, ma quella volta era giusto così. Ma eravamo meno intelligenti di adesso, adesso abbiamo capito la forza di darti delle martellate. Prego. Allora, siccome poi abbiamo anche il Vaillant, abbiamo un break pubblicitario e quando rientriamo poi affrontiamo anche appunto il tema del Vaillant che è stato un episodio drammatico chiaramente, ma anche come dire significativo e importante poi anche per lo sviluppo. La situazione di una nazionalizzazione. C'eravamo ottobre del 63 certo. A tra poco. La nostra è venuta la nostra a Grazie a tutti.